di iniziare. Buongiorno, benvenuti anche da parte mia al Domino Point Days 2012 che si sta avviando verso la sua conclusione. L'argomento di oggi che tratterò in questa sessione sono l'utilizzo delle policy in domino. Policy che sono state già ampiamente bistrattate nella sessione di ieri, io spero in qualche modo di poter farvi ricredere, almeno ci proverò. La mia esperienza dice che questo strumento purtroppo è spesso sottoutilizzato all'interno delle aziende se non addirittura ignorato. Prima di partire con la sessione mi presento per chi ancora non mi conosce, mi chiamo Stefano Benassio, 40 anni, mi sono laureato in ingegneria elettronica nel 1997 a Parma e dopo tre anni passati nell'automazione industriale come programmatore PLC e programmatore PC, sono approdato a Notus Domino. Subito il mio lavoro era sviluppare. Ho fatto tre anni da sviluppatore e dopo dal 2004 diciamo che la mia attività principale è diventata l'amministrazione di infrastrutture e tutto ciò che ruota attorno all'autos domino. Dall'inizio del 2010 sono libero professionista e ho avviato un'attività in proprio. Andiamo a vedere l'agenda, gli argomenti che tratteremo in questa sessione. Innanzitutto vedremo a cosa servono le policy, come sono strutturate, le varie tipologie di setting presenti all'interno delle policy, come fa Domino a calcolare una policy da applicare a un determinato utente, che è una cosa molto importante. Quando questa policy effettiva entra in funzione sull'utente, vedremo gli strumenti che Domino mette a disposizione per il troubleshooting, perché comunque nel deploy delle policy è inevitabile che qualcosina da sistemare ci sia. Le best practices derivate dalla mia personale esperienza, ma anche da quello che ho raccolto in rete, alcuni suggerimenti e trucchi e poi spero che ci sia anche il tempo per una sessione di domande e spero risposte. Partiamo subito. A cosa servono le policy? Un'infrastruttura North Domino è un'infrastruttura composta da varie tipologie di client, molto diverse tra loro e anche geograficamente distribuite. Quindi ciò che sogna un amministratore Domino è quello di poter deployare determinate configurazioni su tutto il parco client in maniera centralizzata. Le policy fanno esattamente questo. Quindi da quando sono state introdotte con la release R6 nell'ottobre 2002 abbiamo noi amministratori Domino uno strumento che possiamo utilizzare per deployare in maniera centralizzata determinate configurazioni per gestire il funzionamento della nostra infrastruttura. Queste configurazioni vengono deployate sia sui client notes ma anche su client web e per chi ce li ha anche device mobili. I vantaggi sono assolutamente evidenti, i vantaggi della centralità della gestione e anche la possibilità di uniformare un determinato tipo di comportamento sui nostri client. Passiamo a vedere come sono strutturate le policy all'interno di Lotus Domino. Fondamentalmente lo sapete questo. Cosa sono? Che strutturano le policy dentro a Domino? Sono dei documenti notes, né più né meno. Sono dei documenti notes che possono essere di due tipi. Policy document e policy settings. Questi due tipi di documenti compongono l'infrastruttura. I policy document che cosa definiscono? Definiscono come applicare le configurazioni agli utenti del mio dominio. Invece i policy setting definiscono che cosa? Cioè i valori dei parametri che io voglio deployare sul mio parco clienti. All'interno del Domino Administrator, adesso non so quanto si veda però insomma purtroppo ha una risoluzione quel proiettore lì un po' bassa. Comunque all'interno del Domino Administrator nel tab People and Groups ci sono due, proprio due voci che identificano le viste all'interno delle quali io mi trovo raggruppati queste due tipologie di documenti che ho appena nominato. Quindi ricordiamocelo, policy e policy setting, anche se immagino che queste cose le sappiate già e le conosciate già molto bene. Addentriamoci. Prendiamo il primo tipo, policy. Farò riferimento a una release 8.5 superiore, perché voi sapete che nel corso del tempo hanno subito una notevole evoluzione le policy. Quindi abbiamo nella release 8.5 sono presenti tre tipologie di policy, abbiamo le policy organizzative, le policy esplicite sulla persona e le policy esplicite dinamiche. Una caratteristica che accomuna queste tre tipologie di policy è, come ho riportato, il fatto di avere un solo documento per ogni tipo di policy, per ogni tipo di setting all'interno della policy. Questa cosa vi risulta chiara nella slide immediatamente successiva dove ho messo un piccolo screenshot che spiega questa cosa. Andiamo ancora più nel dettaglio e andiamo ad analizzare questi tre tipi di policy. Policy organizzative. Le policy organizzative esistono sin da quando le policy sono state introdotte. Vengono applicate agli utenti in virtù del fatto di appartenere a una certa organizzazione domino o unità organizzativa. Sto parlando di certificati, perché troppo spesso ho visto far confusione tra dominio e organizzazione. Stiamo parlando di certificati domino, la barra per intenderci, il nome gerarchico, ok? Quindi se io adesso qua purtroppo vi chiedo scusa, con la risoluzione si vede malissimo questa immagine, lì c'è scritto Lotus Lab, quindi se io ho all'interno del mio dominio un'organizzazione che si chiama Lotus Lab, nel momento in cui vado a creare una policy alla quale do il nome dell'organizzazione, io faccio in modo che questa policy venga applicata a tutti gli utenti di questa organizzazione. Quindi utilizzo il campo policy name, quello lì, per fare in modo di applicare una policy organizzativa ai miei utenti. Non so quanti di voi lo sappiano, c'è anche la possibilità all'interno di una infrastruttura domino, di deployare delle policy a tutti gli utenti indipendentemente dal numero di organizzazioni presente all'interno del dominio domino, cioè io posso avere un dominio domino, c'è un varie configurazioni, posso avere un dominio domino per esempio con 5 organizzazioni, magari ho una policy che voglio deployare su tutte queste organizzazioni, quindi invece di andare a fare una policy per ogni organizzazione, posso creare una policy asterisco e questa verrà applicata a tutti gli user del domain domino. Ok? Va da sé che nel caso in cui io abbia un utente e tramite il domino administrator faccia una move di quest'utente da un'organizzazione o da un'unità organizzativa a un'altra, ovviamente saranno diverse le policy che verranno applicate a quest'utente, ma a questo pensa tutto domino in maniera assolutamente automatica. Nella slide precedente quando facevo riferimento al fatto che esiste un solo tipo di setting per ogni policy, facevo riferimento a questo discorso, cioè io per ogni tipo di setting io posso specificare all'interno della policy uno e un solo documento setting creato da me. Secondo tipo, questo era l'altro tipo che era presente sulle policy quando sono state introdotte nella RSI, le policy esplicite sulla persona. Cosa significa? Significa che io vado a creare un legame tra un documento policy e un certo utente andando a definire la policy sul documento persona dell'utente. Questo lo posso fare o andando proprio a esplicitare il nome della policy da assegnare all'interno della sezione policy management c'è un campo assigned policy in cui posso proprio andare a specificare questa policy. In alternativa posso utilizzare il tool di assigned policy disponibile sul domino administrator. Colonna di destra, vi ricordateci la sezione tools, posso sfruttare quello strumento, non cambia, non c'è assolutamente nessuna differenza. Che svantaggi ha una gestione delle policy di questo tipo? Uno è enorme, che è quello che ho riportato qua, che è quello di poter applicare in questo modo una sola policy a un certo utente. Quel campo non è multi value, quindi ne posso specificare solo uno. Fino alla release 8 non c'era altra scelta, non si poteva fare altrimenti perché oltre alle policy organizzative esistevano solo ed esclusivamente le policy esplicite. Quindi se dovevo applicare certe impostazioni a certi utenti ad hoc dovevo per forza andare a specificare questa policy sul loro documento persona. Dalla release 8 però c'è stato fatto un veramente piccolo passo in avanti nel senso che era possibile tramite il tool di assigned policy di assegnare, era possibile assegnare una policy a un gruppo di utenti, ma questa policy rimaneva assegnata in maniera completamente statica. Cosa intendo? intendo che se io in un secondo momento andavo ad aggiungere un utente a un gruppo, a questo utente non veniva applicata la policy che io avevo precedentemente assegnata al gruppo tramite il tool di assigned policy. Motivo per cui la grossa novità introdotta con la release 8.5 sono le policy dinamiche. Piccola parentesi, d'ora in avanti se parlo di policy esplicite faccio riferimento alle policy esplicite sulla persona, se parlo di policy dinamiche genericamente sono le policy esplicite dinamiche, ok? Giusto così per non fare confusione. Le policy dinamiche sono una cosa fantastica. Attraverso le policy dinamiche io posso applicare a un utente o a un gruppo di utenti o più gruppi di utenti, contemporaneamente le stesse impostazioni, perché io vado selezionando all'interno del policy document andando a selezionare il policy type explicit compare all'interno dei tab questo tab policy assignment che tipicamente nel momento in cui andate a fare new all'interno della policy non c'è. All'interno di questo tab io posso andare a specificare l'elenco dei gruppi e degli utenti ai quali voglio assegnare la mia policy. Vi consiglio molto vivamente l'utilizzo di gruppi, vedremo dopo il perché. Quindi il vantaggio è molto chiaro, oltre a poter assegnare contemporaneamente più policy a uno stesso utente, semplicemente io posso cambiare la policy applicata a un utente spostando la persona da un gruppo all'altro. Ci pensa Domino poi a risolvere e a calcolare la nuova policy effettiva da applicare all'utente. Ok? È stato abbastanza chiaro? Ho detto che sono disponibili dalla release 8.5 ed è vero, le policy dinamiche prima non c'erano. State attenti però che le policy dinamiche vengano capite, vengono interpretate, dalla release del client 8.0.1 o superiore. Ok? Sono una grossa novità a tal punto che il Domino Administrator quando andate a utilizzare le policy esplicite vi dice, all'occhio ragazzi, guarda che stai, abbiamo cambiato il modo di gestire, immagino che questa screenshot lo conosciate molto bene, abbiamo cambiato il modo di gestire le policy. Quindi se vuoi mantenere il vecchio modo puoi però sei vivamente invitato a utilizzare le policy dinamiche. Premendo su ok compare questa seconda message box, questa seconda finestra, nella quale compaiono due combo. Nella prima combo voi andate a selezionare il nome della policy che volete assegnare all'utente o al gruppo di utenti attraverso il tool di assign policy. Ok? Nella seconda combo andate a scegliere il modo col quale volete assegnarlo. Domino vi chiede, volete utilizzare il nuovo modo, cioè andare a scrivere all'interno del policy document il gruppo o l'utente o gli utenti ai quali state assegnando questa policy? Metodo raccomandato. Oppure volete utilizzare il vecchio metodo? Volete andare, volete che Domino vada a scrivere in modo esplicito la policy all'interno dei person document? Ve lo sconsiglio. Addirittura adesso non c'è modo di vederlo ma quel fleghettino a low replacement of policies vi da anche la possibilità di passare dal vecchio modo al nuovo modo. Non so se farò in tempo a parlarne, comunque c'è questa possibilità in modo estremamente agevole. Ok. Allora abbiamo visto primo tipo, vi ricordate, due tipi di documenti. Il primo l'abbiamo analizzato bene. Policy document. Passiamo ai policy settings. Policy settings, come vi ho detto prima, raggruppano i parametri, i valori dei parametri che io voglio deployare sui miei client. document. Questi vari parametri sono raggruppati per tipologia di funzionalità. Quando le policy sono state introdotte nella R6 erano veramente poche, erano solamente 5. Nel corso degli anni sono aumentati fino a diventare 10. Adesso li andremo brevemente ad analizzare nelle slide successive. Questi parametri all'interno dei setting document possono essere di tre tipi fondamentalmente. Sono dei campi notes che possono essere di tre tipi. Possono essere una combo, una combo box, quindi un menu a tendina. Una casella di controllo, una check box. Oppure possono essere dei campi liberi nei quali il domino administrator può andare a inserire dei valori che vuole deployare sui propri client. Ok, allora, analizzata la struttura, andiamo adesso a fare una breve carrellata su tutti i tipi di setting attualmente presenti in una release 8.5 o superiore. Partiamo, ho evidenziato in rosso quelli che, a mio modo di vedere, non possono mancare all'interno di un deploy di un'infrastruttura domino. A meno che voi non avviate dei tool di terza parte o avviate sviluppato qualcosa ad hoc per la registrazione degli utenti, quindi nel caso in cui utilizzate il domino administrator, come direi la maggior parte, per registrare gli utenti, i registration setting, il primo tipo che adesso andiamo ad analizzare, vi risultano molto utili. Perché se correttamente compilati, voi riuscite a registrare un utente domino semplicemente inserendo nome, cognome, password. Tutti gli altri campi che sono presenti all'interno della finestra di registrazione utente, il valore di questi campi viene prelevato dai registration setting che avete precedentemente compilato. Quindi con tre parametri riuscite a registrare un utente. Estremamente comodo, fanno risparmiare tanto tempo nel caso in cui, come vi dicevo, utilizzate il domino administrator. Setup setting sorvolo, ormai sono obsoleti, sono stati rimpiazzati dai desktop setting con un valore di outapply, di set initial value che vediamo successivamente. Quindi vado molto veloce. I desktop setting sono quelli fondamentali. Questi non possono mancare perché sono i setting, i parametri che gestiscono il funzionamento quotidiano dei vostri client nodes. Ok? Attraverso la dynamic client configuration vengono applicati e vedremo il modo, il dettaglio successivamente. I mail setting, altrettanto importanti, servono per specificare le preferenze delle caselle di posta dei vostri utenti. Ci sono delle opzioni, non si può pretendere che un utente Lotus Notes conosca i 10 milioni di flag e di combo che ci sono all'interno del menu delle preferenze. Ci sono dei valori di default che non sono quelli che fittano meglio il comportamento, il deploy di notes all'interno di un'azienda. Quindi cercate di aiutare per ridurre le chiamate all'app desk, cercate di modificare i valori in modo appropriato per favorire i vostri utenti. Ok? Come vengono applicate l'ho scritto anche qua ma lo vedremo più nel dettaglio successivamente. Ultimo tipo che non può mancare, questo non può mancare, sono i security settings. Come dice il nome stesso, gestiscono la sicurezza degli utenti di Lotus Notes. Fanno tantissime cose, alcune le ho elencate in questa slide. Mi soffermo brevemente su due cose che personalmente utilizzo tantissimo. introdotte con la release 8.5, il notes share login che ha soppiantato finalmente quel bruttissimo servizio che gira in locale, il vecchio Lotus Notes single logon che era una roba ubriosa, nel senso che si occupava di tenere allineate le password. se uno ha un portale attraverso il quale posso cambiarmi la mia password di Active Directory, vi saluto la sincronizzazione. In questo modo invece io se mi cambio la password attraverso un portale, la mia password di AD, non ho problemi. Perché comunque il single sign on è un vero single sign on, notes, windows. Ok? Proprio non c'è sincronizzazione, è un vero single sign on. DD Vault è andato a sostituire la vecchia recovery information con una gestione molto più semplice, molto più agevole, soprattutto per quanto riguarda il reset password. Immagino che già molti di voi l'abbiano sperimentato sulla propria pelle, risettare la password di un utente è una cosa che purtroppo capita. Ok, archive settings, vabbè qua vado abbastanza veloce, sono quelli utilizzati per la gestione dell'archiviazione della posta. Vengo agli ultimi quattro che sono quelli, tra virgolette, meno importanti, anche se non li si può definire tali. I traveller settings che sono quelli che vi permettono di gestire le configurazioni del parco client, diciamo non blackberry, in linea di massima. Connection settings sono quelli che vi servono per configurare, se ce l'avete, un server IBM Connections, che è il social software di IBM all'interno della vostra infrastruttura. I roaming settings, contrariamente a quello che uno può pensare, non servono per deployare il roaming sugli utenti, ma servono per definire le configurazioni nel caso in cui vogliate fare in modo che gli utenti abbiano i propri roaming files su una share di rete anziché sul server domino, che era una cosa nativa, cioè da quando esistono i roaming file, i profili roaming, i file roaming dovevano risiedere sul server domino. Adesso possono risiedere anche su una share di rete. Gli ultimi, i symphony settings con la release standard di Lotus Notes dalla 8, è possibile utilizzare il tool di produttività di IBM, Lotus Symphony, e attraverso questi setting potete andare a fare un minimo di configurazione. Vediamo la cosa, a mio modo di vedere, più bella e più complicata. Allora abbiamo detto che, se prendiamo un utente all'interno di un'infrastruttura domino, a questo utente quante policy possono essere applicate? Più policy organizzative, più policy dinamiche e eventualmente anche una policy esplicita. A questo punto domino deve fare uno sporco lavoro, nel senso che i valori dei parametri che vengono applicati ad un utente devono essere calcolati dal server. Perché? Io posso avere più policy associate a determinati policy setting che per un certo parametro vanno a definire valori differenti. Quindi deve essere implementata una logica attraverso la quale il client note, faccio riferimento al client note, deve sapere quale valore deve utilizzare per un determinato parametro perché ci sono più valori in conflitto tra loro. Da una certa release in avanti, la policy che viene effettivamente applicata all'utente viene calcolata dal server domino. Prima veniva calcolata dal client note. Vediamo quali sono i meccanismi che domino utilizza per risolvere quei conflitti di cui vi ho parlato adesso. Il primo meccanismo che utilizza è un meccanismo di gerarchia. Il concetto di gerarchia è assolutamente chiaro direi, per le policy organizzative. Lo è un po' meno, anche parlando ieri con qualcuno, lo è un po' meno sulle policy dinamiche, nel senso che per implementare una gerarchia sulle policy dinamiche bisogna per forza utilizzare una particolare naming convention, cioè la gerarchia è realizzata attraverso il nome delle policy. Se io ho quindi una gerarchia, sia organizzativa che esplicita, adesso nell'esempio che ho riportato nella slide faccio riferimento a una policy organizzativa. Se io ho quindi dei parametri che vengono impostati da varie policy, tra le quali esiste un legame di parentela, vince il valore impostato dalla policy più specifica. Ok? Facciamo un esempio che in questo caso è la cosa migliore. Due policy organizzative, organizzazione, unità organizzativa. Ho preso in considerazione quattro parametri che sono propri dei security settings. Ok? Io ho un valore, per esempio per il require change interval di 120 giorni specificato dalla policy organizzativa. Questo don't set lo vediamo meglio dopo. Leggetelo come la policy europe acme non specifica nessun valore. Per quella policy lì, quel parametro è come se non ci fosse. Ok? E' ovvio che nella policy che viene applicata all'utente vincerà la policy meno specifica in questo caso perché la policy più specifica non determina nessun valore. Questo vuol dire quello che ho scritto tra parentesi qua. Valutata campo per campo. Cioè valutata parametro per parametro. Vedete questo caso va contro quello che ho scritto qua. Ma è così che funziona. Cioè deve essere valutata campo per campo la gerarchia. In questo caso invece entra in funzione. Le due policy mi specificano due valori differenti. Che valore vince all'interno della policy effettiva? Il valore della policy più specifica. Cioè quella legata alla policy organizzativa. Ho dato per scontato che è l'utente al quale... Non l'ho detto ma è ovvio che sto pensando a un utente che fa parte dell'unità organizzativa europe acme. è ovvio. Terza colonna. Vado un po' veloce visto che ho ripetuto la stessa situazione che vi ha nella prima. Nella quarta c'è un valore blank che è un valore. Non è don't set. È un valore. Ho deciso di non specificare l'id volt. C'è una bella differenza tra il... Non ho... Dopo lo vedremo meglio. Questa cosa qua. Dimmi. Torno indietro. La policy effettiva è la policy che io vado ad applicare all'utente che viene calcolata... Ok. No, no, no. È proprio quella che io vado ad applicare all'utente che è il risultato della combinazione... Esatto. E questo è il primo meccanismo che viene risolto. Appena dopo aver utilizzato questo meccanismo Domino utilizza il criterio di specificità. Cosa vuol dire? Che se c'è un conflitto di valori vince il valore impostato da una policy più specifica. Qual è la specificità delle policy? Beh, le ho ordinate in ordine crescente di specificità è abbastanza intuitivo organizzativa, dinamica ed esplicita. Ok? Caso, così ci capiamo molto bene ho preso una policy organizzativa una policy dinamica una policy esplicita stessi quattro parametri ok? Prima colonna io ho la policy a specificità maggiore che mi imposta un valore 180 giorni quindi venendo da quello che dice la policy effettiva cioè nel momento in cui Domino la applica all'utente viene applicato il valore di 180 giorni nel secondo caso è assolutamente identico il terzo caso invece la policy esplicita non mi specifica nessun valore quindi qual è quella immediatamente superiore? Policy dinamica vince il valore della policy dinamica password quality per l'utente è 4 l'ultimo caso è identico quindi non mi soffermo perché di cose da dire ce ne sono parecchie ok due meccanismi gerarchia e specificità c'è un'opzione molto utile due in realtà sono le opzioni di Enforce e Inerit che vi permettono di cambiare il comportamento su quelle policy per le quali esiste un rapporto di parentela padre figlio detta così può essere forviante almeno non so quanti di voi lo lo hanno visto io personalmente l'ho trovato scritto solo su una tech note di cui riporto lì il nome il numero scusate non ho mai trovato sul Domino Administrator scritto questa cosa fondamentale cioè una policy esplicita che è una cosa se volete intuitiva ma una policy io perlomeno non l'ho mai trovato scritto una policy esplicita è figlia di qualunque policy organizzativa che viene applicata all'utente quindi se prendete per esempio dei setting di tipo desktop qua c'è scritto Inerit from parent policy però dovete ragionare come se cioè questo discorso vale anche nel caso in cui ci sia una policy organizzativa cioè mi spiego meglio scusate questo qua prendiamo facciamo l'ipotesi che questa qua sia una policy dinamica se ho un setting legato a una policy dinamica letta così sembrerebbe che che questo qua potrebbe funzionare solamente se io avessi un rapporto di parentela padre figlio ma questo non è vero cioè se io ho una policy organizzativa che mi specifica un determinato valore per un certo parametro e la policy dinamica non può essere figlia di una policy organizzativa però può ereditare dei valori e la policy organizzativa può fare l'enforce di valori anche se non esiste un rapporto di parentela diretta padre figlio perché? perché è vero questo take note 122 44 60 è stato abbastanza chiaro su questo concetto? che se volete intuitivo perché altrimenti uno si chiede boh io faccio un enforce una policy organizzativa quindi quello lì sembrerebbe funzionare solamente su una policy di unità organizzativa sotto di lei e invece no non è così andiamo nel dettaglio prego lo guardiamo subito è questa slide è questa slide vi chiedo scusa non si legge qua dopo vi spiego cos'è comunque allora l'enforce e l'inerit sono due opzioni che fanno lo stesso mestiere cioè servono per impostare per imporre un valore da una policy a specificità minore a una policy a specificità maggiore solo che con l'enforce io faccio un push dall'alto cioè sparo giù un valore dall'alto con l'inerit io invece faccio un pull lo tiro giù dal basso questo valore ok? c'è una grossissima differenza anzi due differenti una è che questo è sempre vero tranne il caso in cui abbiate una policy eccezione se potete non usatele perché comunque sono di gestione almeno ritengo personalmente ritengo che che siano una policy eccezione è una policy se vai nel tab administration di una policy c'è un flag lì che adesso non si legge non si legge però quello lì fa in modo che se ci sono delle policy a priorità minore che fanno un push tramite un enforce di un determinato valore con questo hai un override cioè vince la policy e l'enforce viene ignorato esattamente la perversione avanti scusa? la perversione avanti si no più che altro perché dopo esatto è per quello che vi dicevo che se riuscite fatene a meno dopo arriva però il top manager che vuole quella cosa che fa l'override vuole avere la quota di infinita finchè c'è spazio voglio usare il disco ok ecco 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 occhio perché lo vediamo meglio nell'esempio l'altra differenza è che l'inerit non si propaga sotto alla policy sulla quale viene specificato adesso vi spiego meglio che cosa voglio dire sempre l'esempio precedente non mi dilungo su questa cosa ci vedete io segno di qua vi chiedo scusa segno di qua di lì non ci arriverei allora ho un esempio faccio questa mattina a Fabrizio ho una policy organizzativa require change interval ho una policy a specificità bassa è quella organizzativa che mi specifica 90 giorni ma ho l'enforce specificato su quel parametro è sul parametro della policy questo fa sì che il valore di 180 giorni specificato da una policy a specificità maggiore risulti completamente ignorato vince vincono i 90 giorni dimmi se io avessi sulla dinamica dirigente in 120 giorni in force vincerebbe l'enforce in quella di l'enforce si ah no scusa qua è direttamente no vince quella più in alto ancora quella più in alto quindi è sempre comunque 90 la mia esperienza questo quando anche questo non l'ho trovato scritto da niente però la mia esperienza dice che vince questa vince quella da la prima che pusha in alto boom si sempre nel caso in cui tu non abbia poi delle eccezioni prego perdonami non ho capito la policy synopsis la policy synopsis dipende dal tipo di policy synopsis che fai se fai un detail si se vai in San Marioli no si 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 la policy synopsis ci arrivo e dopo ci arrivo se faccio in tempo ci arrivo eh le policy synopsis sono un argomento beh dopo c'è puoi portare pazienza scusami eh no 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 allora eh in realtà lo vedi c'è un eh c'è un c'è un lucchettino non so se hai mai fatto caso sulle c'è un lucchettino che ti dice che è forzato giusto per rispondere a tua domanda dopo spero di essere per se ci sarà tempo no allora teoricamente ci viene il lucchettino viene un lucchetto anzi no perdonami scusami ti ho detto una cosa sbagliata scusami eh no perdonami ho fatto confusione io no il lucchettino è quando hai il locked che è il set value in prevent changes eh sul policy synopsis l'enforce non lo vedi non lo riesce a vedere si dal policy synopsis non riesce a vederlo perdonami ho avuto una risposta avventata non lo vedi Maurizio mio braccio destro eh no non lo vedi perdonami non riesce a vederlo no ritiro quello che ho detto scusami per quanto riguarda l'inerit eh qui stessa cosa avrei un valore di 120 giorni specificato sulla policy a specificità maggiore però l'inerit fa sì che tiri giù il valore della policy organizzativa ok vai non arriverò mai alla fine esatto se vuoi eh allora tipicamente tu non hai se hai allora io ho fatto il caso qua eh però tipicamente tu non hai un valore in che caso se hai per esempio se per esempio hai una policy organizzativa hai una policy dinamica eh questa viene applicata all'utente a te vuoi fare in modo cioè ti vuoi non vuoi specificare quel valore oppure vuoi essere sicuro che quel valore di quel parametro venga ereditato dalla policy superiore perché è quello che vuoi tu perché ti va bene quello che succede sopra ok metti l'inerit non ti interessa che valore andare a specificare per quel parametro non lo set come non lo set non lo set non lo set non lo set a livello esplicito cioè perché dovrei trovarmi in un caso di quel genere perché non posso sentire se si prende quella maggiore ah no perché se io se io qua non avessi se io non avessi un don set cioè se non avessi 90 giorni ho capito adesso la domanda perdonami se io avessi se non avessi 90 giorni e io un inerit non mi eredita niente cioè non mi eredit non viene ereditato io metto 120 giorni al di posto dai in quel momento lì a quel momento lì viene preso il 120 giorni questo 120 giorni non hai niente solo di test se non faccio una prendo quella ok scusa avevo capito adesso ho capito la domanda perdonami si si assolutamente un test con un setting non eredita niente perché non c'è niente solo dal tuo contesto invece c'è un setting dal polis padre dal quale eredita quindi in base al contesto poi eredito bene ok vado vado rapidamente allora altra altro caso che domino deve risolvere abbiamo detto le policy dinamiche più policy dinamiche possono essere assegnate allo stesso utente ok quindi domino si può trovare nelle condizioni di dover risolvere per un certo parametro valori differenti specificate da policy dinamiche diverse ok quindi deve essere in grado di capire quale valore utilizzare in questo caso ci viene in aiuto il meccanismo della precedenza che è proprio delle policy dinamiche ok c'è una vista all'interno del domino administrator che si chiama dynamic policies nel quale io vedo le policy dinamiche organizzate per precedenza valore minore significa valore di precedenza maggiore ok quindi questa policy slash devolt è la policy a priorità massima pur avendo il valore più basso c'è ragione in questo modo quando andate a creare una nuova policy dinamica automaticamente vi viene creata una policy dinamica con il valore a precedenza inferiore in modo da evitare di fare dei danni ok quando viene risolta la precedenza la precedenza viene risolta dopo la gerarchia lo vedremo lo vediamo anzi subito ho cercato di fare un piccolo esempio attraverso il quale combinare tutti i meccanismi che abbiamo visto fino adesso gerarchia specificità e precedenza ok policy in verde abbiamo due policy organizzative quindi entra in gioco il meccanismo della gerarchia avrò una policy organizzativa risultato vi ricordate il primo meccanismo che entra in gioco è la gerarchia quindi avrò una policy organizzativa che è il risultato della combinazione di queste due sulla base dei criteri che abbiamo visto prima che non vado a ripetere per se no non arrivo più in fondo poi abbiamo ecco qua mi soffermo un attimo policy dinamica priorità 3 priorità 2 precedenza 3 precedenza 2 quindi questa precedenza maggiore terza colonna per la pass quella che ha della password io ho valore 4 e valore 10 nella policy dinamica che poi entrerà in gioco per la combinazione finale dei valori io ho un valore 4 perché la policy ha precedenza maggiore è chiaro quindi come entra in funzione la precedenza a che livello gerarchia poi la precedenza e solo alla fine vado a fare la combinazione come ho fatto prima nello stesso identico modo ok e abbiamo con questo diciamo abbiamo visto come domino ragiona per determinare il valore di un certo parametro nel caso in cui abbiamo un conflitto perché quel valore è quel parametro lì è specificato su varie policy che specificano valori differenti ma oltre al valore di un parametro esiste anche la sua persistenza nel tempo cioè per un certo per un certo parametro io posso ho un'opzione che si chiama auto apply HTA parlo di HTA intendo l'auto apply che tipicamente è un menu a tendina ma su certi tipi di policy può anche essere una checkbox ok il caso più complesso che ho riportato qua è quello del menu a tendina in cui abbiamo quattro opzioni che andiamo ad analizzare don't set value ve l'ho già anticipato in qualche slide prima il don't set value fa sì che all'interno per il calcolo della policy effettiva quella policy è come se non esistesse ok quindi l'utente note può cambiare il valore come a suo piacimento il set initial value invece è una policy che viene applicata almeno una volta cioè la prima volta che quella policy viene creata quella policy lì viene applicata e quel valore lì viene applicato sugli utenti le volte successive se un utente è andato a modificare il valore di quel parametro impostato da quella policy quel valore non sarà sovrascritto ok quindi desktop policy più set initial value uguale a setup setting scusatemi desktop setting più setup initial value uguale a setup setting occhio se ci sono dei client prima della release 8 perché non capiscono il set initial value non lo interpretano terza opzione set value whenever modified è un po' un modo per per farsi del male nel senso che voi andate a impostare dei valori sui vostri utenti però gli lasciate la possibilità di modificarselo il problema è che quindi un utente se lo modifica peccato che 12 ore dopo quel valore gli venga sovrascritto quindi avrete degli utenti frustrati perché mi è già capitato per errore avevo lasciato un valore set value whenever modified per questioni di test e effettivamente l'utente può modificarsi il valore ma lo può dopo viene sovrascritto questo è quel prego non funziona no 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 non funziona sempre ecco è vero il set value prevent changes invece è il è quello probabilmente più utile nel senso che voi andate a forzare il valore di un certo parametro e impedite che il vostro utente lo possa modificare ci sono dei parametri adesso purtroppo per questioni di tempo non possiamo vederli ci sono dei parametri che assolutamente devono essere così perché l'utente che si alza male che incomincia ad andare a cliccare non sa dove potrebbe generare un numero di chiamate alle desk considerebile anche per l'HTA valgono discorsi di inerity enforce visto per il per il calcolo del valore occhio perché un don set value più enforce vale cioè fa sì che il parametro non abbia un valore nella pollice effettiva e poi c'è ci vede da cani ma c'è un pulsante dentro al ad alcuni policy setting che fanno sì che si possa impostare in maniera massiva il don set value su tutti i parametri di un certo di un certo setting document ok molto utile perché per esempio voglio fare una policy dinamica perché voglio testarla voglio applicare una certa configurazione solo a un certo utente quindi o un gruppo di utenti entro entro creo il setting document auto apply tutti i don set value e poi vado a modificare solo quelli che mi interessano per testarla perché in questo modo quella policy lì non va a alterare eventuali valori impostati dall'alto e ne influenza quelli del bar cioè l'influenza solo per il valore determinato ok abbiamo visto come domino fa a calcolare il valore di un determinato parametro come risolve i conflitti che si possono generare ma le policy quando le creo le modifico quando hanno effetto ci sono tante cose che entrano in gioco in primis entra in gioco il discorso dell'aggiornamento delle viste della names voi sapete che le viste della names di default si aggiornano ogni minuto a meno che non sia presente quella variabile nel nozzini updateNavViewDisable uguale a 1 col che non si aggiornano mai oppure se avete eh modificato eh la frequenza attraverso quest'altra variabile che può essere presente nel nozzini ok vi ho detto all'inizio i po i documenti policy sono dei documenti che sono presenti all'interno dell'omino directory quindi sono dentro delle viste se non si aggiornano gli indici delle viste queste qua non entrano in funzione se volete forzare immediatamente l'aggiornamento delle viste potete lanciare un comando in console load up doll meno t nome vista in questo caso è dollaro policies meno r fate un rebuild dell'indice della vista a quel punto lì siete sicuri che l'indice della vista è aggiornato perché domino l'ha ricostruito nel caso di policy dinamiche oltre al tempo di aggiornamento delle viste dovete tenere conto anche della cache dei gruppi perché se applicate le policy dinamiche dei gruppi domino ha una sua cache dei gruppi quindi potrebbe esserci un ritardo dovuto alla cache dei gruppi tipicamente io vado e vengo al secondo punto tipicamente io vado a editare modificare le policy sul server amministrativo del mio dominio ma magari se sono in un'infrastruttura domino multi dominio io ho il long server dell'utente che non coincide con il server amministrativo quindi devo tenere conto dei tempi di replica della names se domino è correttamente configurato dovrebbero essere abbastanza bassi rido perché capita di vedere di tutto e di più ok ultima cosa quindi le ho modificate ho aggiornato gli indici delle viste ho replicato sull'home server dell'utente queste policy sono finalmente pronte per essere applicate ma quando entrano realmente in funzione? beh dipende dai setting se io ho dei mail setting o dei traveller setting tipicamente entrano in funzione ogni 12 ore e vengono eseguiti dall'administration process ok io posso variare questa frequenza attraverso questa variabile nelle nozzini se voglio fare in modo che vengano applicate subito lancio un comando in console tell admin p process mails policy tell admin p process traveller sulla base in base a quelle che voglio applicare archive ovviamente devo lanciare una compact menu attraverso un program document che mi utilizzi gli archive setting che sono andato a definire setup entra in funzione se eventualmente li avete definiti solo in caso di di un del setup di un client node ma la cosa più interessante è qua c'è Daniele? no ieri mi chiedevo una cosa e e qua trovo la risposta allora l'utente arriva apre il client node il client node si va a autenticare sul server domino nel momento in cui si autentica invia un digest della situazione delle policy calcolata attraverso un meccanismo di hash al server domino domino fa un calcolo delle policy che secondo lui quest'utente deve avere in locale quindi calcola il digest di queste policy se i due valori confronta questi due valori quello passato dal client node e quello calcolato da lui se questi valori non coincidono dice al client node oh hai bisogno di rinfrescare le policy in locale quindi la dynamic client configuration che è un eseguibile che sta dentro la directory dei programmi dei client nodes l'ncfg.exe che viene lanciato all'avvio del client node a quel punto fa una che gira sempre parte sempre l'ncfg.exe perché fa anche delle altre cose oltre che fare il pool delle policy per fare il pool delle policy attraverso l'api name get policy fa il retrieve della nuova situazione delle policy perché gliela ha detto domino che non sono aggiornate quelle che ha in locale ok? quindi fa il pool delle policy e le cache in locale dove nella names c'è una vista nascosta dollaro policies nella quale potete andare a vedere la situazione delle policy che sono cacheate localmente dopo aver fatto questo le policy vengono applicate e viene calcolato l'hash da rimandare al server domino l'autenticazione successiva ok? tutto questo processo che ho elencato in questi sei punti è concluso quando vedete nella status bar di lotus notes note configuration setting have been refreshed che l'avrete visto migliaia di volte è stato abbastanza chiaro su adesso la cosa è un po' complessa però gli step di base sono questi sono in terribile ritardo ok quindi abbiamo visto come funzionano e come vengono applicate quando vengono applicate le policy vediamo gli strumenti che domino mette a disposizione per il troubleshooting delle policy li ho elencati qua sono fondamentalmente cinque poi dopo magari possono essere scordato qualcuno però insomma grossomodo sono queste veniamo al policy synopsis che chiedevi lo guardo veramente a livello alto dopo se c'è qualcosa a cosa serve serve per vedere come il server domino calcola la policy effettiva per quell'utente sul server ok lo si può lanciare o facendo tasto destro sulla vista people degli utenti policy synopsis o attraverso il solito menu tools nella barra di destra del domino administrator esistono due tipologie di policy synopsis il summary only e il detailed adesso le vedremo a breve che entrambi comunque producono dei report questi report vengono memorizzati all'interno del policy syn.nsf che sta in locale nella data directory in locale se utilizzate un summary only allora questo è un esempio di report innanzitutto generato da un policy synopsis io non lo adoro particolarmente il policy synopsis se non nel summary only nel summary only avete solamente questa parte qua ok vi fa vedere quali sono le policy che il domino utilizza per calcolare la policy effettiva applicata a un certo utente quindi sapete quale policy sta andando a considerare questi sono dei link vivi se cliccate qua sopra vi apre la policy esplicita dinamica quindi avete la policy asterisco la prima di cui ho parlato una policy organizzativa due policy dinamiche e una policy esplicita in questo caso ok quindi nel calcolo della policy effettiva per admin test so che entrano in gioco queste nel caso in cui faccia un synopsis di tipo detailed io ho tanti valori il problema qual è? per quello che ti dico che non li uso tanto voi avete un parametro sul form delle policy questo parametro però imposta un certo campo non è proprio intuitivo nel momento in cui avete questa sbrodolata di valori avere l'associazione nome campo parametro in alcuni casi è anche intuitivo ma se dovete fare diciamo nel 90% dei casi quelle volte che mi sono dovuto andare che mi è servita questa cosa qua ho dovuto aprire la names in designer andare a prendersi a prendere il form purtroppo al momento non c'è altra soluzione bisogna aprire la names in designer andare a aprire il setting form il form setting ad hoc e andare a vedere come si chiama quel campo collegato a quel parametro col che dopo potete risalire e andare a vedere il valore ok? se non c'è lì dentro vuol dire che viene ignorato che non è specificato dalla policy vista dollaro policies l'abbiamo appena l'abbiamo appena vista nella nei contatti abbiamo una vista nascosta che quindi control shift go to elenco delle viste nascoste nelle quali vengono casciate nelle quali vengono casciate la situazione diciamo di policy per quel determinato utente andando non c'è un form col quale vedere i valori quindi o utilizzate un plugin per esempio sulla sidebar di notes oppure molto banalmente un document properties e poi andate a vedere il nome di un campo per esempio questo qua quello evidenziato è il campo che serve per il dollaro pref autosave interval ogni quanto notes salve in automatico un documento aperto ok? autosave di notes log nsf io lo uso personalmente solo per una cosa per vedere se gira o no la dcc problema che potrebbe presentarsi perché ho elencato quattro possibili motivi nel nozzini c'è disable dinconfig client non gira se c'è quella variabile lì la dynamic client configuration non gira non è specificato l'home server sulla località in uso non funziona avete per caso quella località in uso impostato tramite il menu advanced della località l'accept update uguale a zero cioè voi fate in modo che i valori dei campi di quella location non possano essere aggiornati in fase di avvio del client notes quindi non verrà giù altra cosa che potrebbe capitarvi la cave pubblica dentro al file id dell'utente è diversa da quella memorizzata all'interno del person document nada ok questo qua è quello che vedete nel log nsf in locale parte fa un po' di roba shutdown ok ndin cfg.exe tra parentesi intanto che ci sono prima che me lo scori perché se state siete in debug delle policy voi fate una modifica vi ho detto come aggiornarle immediatamente server side con un load up dollar policies meno r ma se io voglio fare in modo di tirar giù questa situazione immediatamente senza sloggarmi e riloggarmi beh un metodo c'è aprite una shell dos andate nella directory dei programmi notes e lanciate ndin cfg.exe spazio meno 2 ok quello lì riuscite a fare un debug immediato un test immediato perché vi riscarica la situazione delle policy magari lanciatela anche un paio di volte mi è capitato che non so per quale motivo forse per un bug vero Maurizio? forse per un bug non funziona mi è capitato che venisse presa la seconda volta però non vi so dire sono amici eh in fondo mi vogliono bene ok policy viewer lasciami finire eh policy viewer uno strumento è sul domino administrator tab configuration io ho eh una sezione policy in cui c'è by setting e by hierarchy molto brevemente cosa serve by setting io ho tre frame nel primo frame in alto a sinistra io ho l'elenco di tutti i setting definiti all'interno del mio dominio domino categorizzati per tipologia di setting andando a evidenziare un documento qua io riesco a vedere quali sono le policy che stanno attualmente utilizzando quel setting se qua è vuoto non lo utilizza nessuno ok e qua sotto vedete il dettaglio by hierarchy io lo uso solo per una cosa magari serve anche altro però io vi dico lo uso per una cosa potete compare questo menu attraverso il quale potete andare a selezionare un certo utente ok una volta selezionato l'utente vedete le policy che vengono applicate all'utente policy organizzativa policy dinamica policy esplicita ok se vado a selezionare per esempio una policy esplicita qua ci possono essere più setting impostati da quella policy esplicita in questo caso ne è solo uno lo seleziono qua sotto avete in maniera grafica la combinazione dei setting impostati da tutte queste policy ok sono il risultato di queste di queste policy queste ve le leggete se avete bisogno di fare il debate ci sono delle variabili da inserire nel nozzini per fare per avere c'è un po' troppo c'è un po' troppo slide ok best practices cercate di implementare delle strutture semplici ok policy organizzative eh policy organizzative dinamiche come vi dicevo esplicite se meno possibile eccezioni possibilmente no eh la cosa che ho evidenziato è che il deploy di una policy organizzative errata può sdraiare un'azienda eh occhio occhio e poi dopo capirete è ancora più grave dopo capirete perché quindi io vi ho elencato qua come faccio io che ci sarà sicuramente un modo migliore questo è come faccio io quando devo deployare delle delle policy che so che magari vanno a impattare su migliaia di utenti eh creo una policy dinamica creo i setting che devo deployare utilizzando quindi don't set value auto apply don't set value tutto e vado a specificare i valori che mi servono assegno un setting nella policy creo un gruppo di utenti di test contenuto sul quale al quale vado a associare quella policy quindi la mando in produzione per questi utenti lascio passare un po' di tempo durante il quale cerco di avere il numero di feedback più alto possibile in modo da capire se ho fatto un errore oppure se effettivamente ho fatto le cose per bene se la policy è ad alto impatto magari prova anche aumentare il numero di utenti nessuno si lamenta i feedback sono tutti positivi di solito nessuno si lamenta però sono tutti positivi ok se ho la necessità applico quei setting lì a una policy organizzativa se devo deployarla su in base all'organizzazione ok ok ho proprio giusto qualche suggerimento se dovete deployare delle policy dei desktop setting ho scritto policy ma volevo dire settings su degli utenti iNotes state attenti perché se volete realmente deployarli dovete contestualmente anche deployare dei mail setting perché quei setting lì vengono deployati dall'admin p e l'admin p se non ci sono se non c'è un mail setting associato a quell'utente non vi deploya neanche i desktop set initial value se adesso andate a casa e andate a implementare delle policy state attenti perché il set initial value almeno una volta funziona sempre quindi avete i vostri client deployati con dei valori magari personalizzati dagli utenti ok questo qua l'ho imposto il valore che loro siano fatti nel tempo viene sovrascritto secco è perché almeno una volta il set initial value entra in funzione ok firma delle policy i policy sono dei documenti firmati vengono applicate solo se la firma è corretta quindi state attenti che non sia firmati da dei con un ID eventualmente expired oppure con un utente che avete cancellato magari un amministratore precedente che se n'è andato quando cancellate un documento policy fate attenzione beh sulle policy organizzative tutti i santi aiutano nel senso che ovunque voi lo facciate viene cancellata solamente la policy sulle esplicite potreste già avere una cosa diversa perché se non lo fate dal tool dal tab administration del domino administrator magari il documento se ci sono eventuali person document nel quale avete usato quella policy esplicita quella lì non viene cancellata avete dei person document sporchi se invece la fate dal domino administrator viene generata una richiesta nell'admin 4 che poi viene processata è una richiesta di tipo daily ok ok eh lo so allora scusate qua allora policy dinamiche mi raccomando cercate di utilizzare solamente dei gruppi per questioni di versatilità quindi potete applicare una policy a un gruppo semplicemente andando a inserire il nome in quella il nome della persona in quel gruppo un errore che mi era capitato non potete fare un undo di una policy cioè non c'è non potete fare rewind occhio eh ctrl z non funziona con le policy dovete reimpostare un valore ok e non potete fare il reset delle policy da remoto bisogna cancellare risposta a quello che mi chiedevo ieri ho capito prima non c'eri dopo te lo spiego dopo te lo spiego ok penultime cose i diritti che bisogna avere all'interno della Domino Directory per poter modificare le le policy oppure crearle sono sono quelle ma direi che le conoscete abbastanza bene cosa fantastica nei desktop setting io l'utilizzo tantissimo si possono modificare le variabili dei nozzini i campi delle location e soprattutto le preferenze di eclipse eh state sono nel tab custom setting che di solito è fuori dal video perché è là in fondo occhio non si può una volta impostate le variabili di nozzini non possono essere rimosse dovete essere attenti per tornare indietro a reimpostarne il valore quindi use basic notes uguale a 1 non potete cancellare potete rimpostare use basic notes uguale a 0 eh coi managed setting si può eh fare il deploy riesco l'ultima cosa una cosa molto carina secondo me eh lo utilizzo tantissimo per fare il deploy massivo in azienda di same time senza girare le macchine degli utenti si riescono con le policy di domino e le policy di same time a deployare in modo centralizzato senza girare le macchine le community same time direi di no scusatemi se grazie